e racconta della vita del lavoro di chi fa il musicista il lavoro di chi fa il musicista il lavoro di chi fa il musicista è come il basso il lavoro di chi fa il musicista è come quello di dare un basso quindi pensavo che ci sono diversi modi di dare un basso che ci sono dei basi che ci danno perché ci è obbligato il lavoro di chi fa il musicista è molto importante e amore non parquet Grazie.